Emilio Sabattini, presidente della provincia di Modena, lo sport è come strumento di welfare e di aggregazione sociale. Quali valori può trasmettere alla società di oggi l'attività sportiva? Io credo che i valori che sono quelli dello sport, che sono quelli dello stare insieme, del sacrificio, dell'impegno quotidiano, della gratuità, sono valori importanti che la società dovrebbe recuperare, perché è una società che ha vissuto molto sull'immagine, sul valore della gratuità, perché tutto ciò che uno fa deve essere riconosciuto economicamente. Quindi lo sport, questo giornato, sullo sport ci dà l'opportunità di ricominciare a ripensare come può essere la futura società. Lo sport può contribuire non solo sul piano educativo, ma anche sul piano dei valori, perché è da lì che la società e la nostra crisi può essere superata se da lì ripartiamo.